Cari amiche e amici, bentornati su Libri di Sangue. Abbiamo concluso il nostro breve periodo di ferie che io ho deciso di arricchire con la produzione di questi shorts. Cosa sono stati questi shorts? In pratica io ho detto, vabbè, non voglio lasciare tutti in nostro circuito, non mi piace dire i miei utenti perché non vedo questo canale come una mia proprietà. Non voglio lasciarli soli, però non voglio neanche parlare di libri tutta l'estate. Voglio dire come la penso nei confronti del mondo, esprimere quello che sono come essere umano. In questo periodo ci siamo divertiti parecchio, sono venuti tanti nuovi iscritti che saluto, abbiamo parlato veramente di tutto e di più. Per questo ho deciso che continueremo anche con gli shorts. Durante uno di questi shorts ho parlato di un fatto, secondo me, tragico, ovvero sia il barbaro omicidio della figlia di un filosofo e politologo che io conosco abbastanza bene e che io stimo, pur non condividendo tutte le sue posizioni, che è Alexander Dugin, definito dai maliziosi, mettiamo così, come il Rasputin di Putin, cosa che ieri nel tappo, andando a vedere le cose come stanno, non è. E allora ho deciso di ricominciare portandovi proprio il libro fondamentale, il più importante, proprio di Dugin, che è la quarta teoria politica. Perché ho deciso di portarvi Dugin? Perché ho deciso di parlarvi di qualcosa di veramente interessante, e specialmente di attualità, visto il conflitto che c'è tra Ucraina e Madra Russia. Dugin è considerato in Occidente come un elemento pericoloso, non pericoloso perché fa attentatio e violento, ma perché le sue idee non piacciono all'attuale, diciamo, mainstream, usiamo dei termini un po' moderni, occidentali. E non è neanche pensate così amato in Russia, contrariamente a quello che vi dicono, non è esattamente così. Ma di cosa parla la quarta teoria politica? Ve la faccio breve perché sennò vi dovrei riassumere. Quasi 400 pagine di pura filosofia politica. E sinceramente non è questo il luogo nel momento in cui vale la pena parlare. Dugin dice che noi abbiamo tre teorie politiche. La teoria liberale, la teoria comunista, la teoria fascista o nazionalsocialista. E' arrivato il momento di superare l'ultima delle tre teorie, che per lui è la numero uno perché è la più pericolosa, che è la teoria liberista, e ritornare alla democrazia nel suo senso originario, ovvero la democrazia che vede protagonisti, i popoli. In realtà questo libro è un'invettiva continua contro l'attuale sistema liberale, perché lui dice che l'Occidente, o almeno un'elite occidentale, ha monopolizzato tutto quello che è l'Occidente, imponendo una dittatura culturale che sta distruggendo tutto il patrimonio culturale, identitario e storico di noi occidentali. Ci siamo su questo. Cosa che noi possiamo toccare anche con mano. Nel momento in cui, come dice Dugin, una certa elite decide una via da intraprendere, usando in media come mezzo di propaganda, avete mai notato che tutti coloro i quali la pensano in modo diverso vengono immediatamente gambizzati, etichettati come folli, pazzi, populisti e roba del genere? Ecco, lui ce l'ha con questo. Facciamo un esempio. Ci stanno imponendo il linguaggio inclusivo. Quella, secondo Dugin, è un'imposizione liberista, poiché vuole appiattire e rendere tutti uguali i singoli cittadini, vuole eliminare ogni forma culturale. Stanno laicizzando i popoli e li stanno rendendo sempre più servi della tecnologia, sempre più servi del lavoro, stanno criticando il mondo dello studio e della cultura. Quello, secondo Dugin, è un effetto di questa presunta, non dimostrata, elite liberista che vuole la fine e l'appiattimento dei popoli occidentali per asservirli al suo potere. Una sorta di 1984 all'Orwell, vogliamo dire così? È così. Dugin però non dà una risposta. Dice che vanno superati liberismo, comunismo, nazionalsocialismo e fascismo per arrivare alla democrazia vera. Una risposta però non la dà, ok? Lui teorizza e poi dice, andando vedendo, saranno i popoli a risolvere il problema. Ora, qua bisogna entrare con un altro concetto. Quando lui parla di popoli, lui parla di populismo e dice il liberismo ha svilito il senso della parola populismo togliendogli tutte le accezioni positive e rendendolo quasi un'offesa, no? Perché come populista si intende che chi non capisce un cazzo ti vuole spiegare le cose in modo semplice. Puntualmente, anche spiegando in modo semplice, dice una minchiata. Esempio, i grillini ai 5 stelle. Lui invece prende il concetto di populismo e ti dice che il populismo è il futuro, ovvero sia il popolo che decide. Però non spiega che come e quando. Lui qua risponde a due accuse che gli vengono fatte. Cioè, razzismo. C'è un capitolo intero dedicato all'antirazzismo, perché Dugin è uno che è contro la globalizzazione, ma è per lo scambio di conoscenze tra le varie culture. E poi Dugin viene definito un antimodernista. Quando Dugin si definisce un antimodernista non si può parlare di un uomo che ce l'ha con la televisione, internet e la tecnologia o con il progresso scientifico. No, Dugin intende come modernismo l'appiattimento culturale del modello liberale. Cosa che, se noi andiamo a vedere, bene a mano un po' tutti noi, tra virgolette, pensanti, non è che stiamo vedendo così bene questo di fatto appiattimento che io, se devo vederlo, lo vedo nella pop culture e lo vedo in questa sorta di egemonia, tra virgolette, diciamo, degli influencer. Faccio esempio. Se la politica sala a Milano va a parlare col ministro alla Morgese del problema della sicurezza a Milano solo dopo che ha fatto un post su Instagram Chiara Ferragni e non ascolta le voci dei comitati di quartiere e le voci di chi si occupa della sicurezza, c'è un problema proprio di appiattimento. Dugin ci dice che il modello liberale vuole che il popolo sia dormiente, vuole che il popolo non abbia cultura e sia ignorante e vuole che il popolo si adegui e si uniformi in un'unica figura geometrica che deve essere ovviamente, come dicono alcune teorie, strampalate, terra piattista. Questa è la verità. Sicuramente Dugin è un pensatore rivoluzionario. Non c'entra un cazzo col governo russo, non c'entra un cazzo col pensiero oligarca putiniano, non dà le risposte che ti dà il capitale di Marx, però ha un suo incipit che ti scuote dentro. Io ho letto questo libro quando è uscito e non sono rimasto fulgorato. Non sono un Duginiano, io ritengo che la risposta sia in un acquietamento, in una moderazione del pensiero liberale, permettetemi il termine, shakerato col pensiero socialista-riformista. Infatti io sono un socialista liberale. Però resta il fatto che questo testo ha un suo incredibile perché. Non fosse altro perché comunque ti pone delle domande e non fosse altro per il fatto che va oltre le dimensioni che noi conosciamo e ci dice che attualmente quella che stiamo vivendo non è la democrazia dei popoli, come dicono bene o male tutte le costituzioni europee, ma è la democrazia di pochi e della finanza. Se lo trovate la quarta teoria politica fatelo vostro perché è un libro che vale la pena veramente leggere. Purtroppo non penso che lo troverete facilmente perché è un libro che è stato un po', tra virgolette, bannato dai grandi circuiti, non si trova facilmente in libreria. All'epoca lo trovai a culo, ma oggi ho notato che non si vede niente di Dugin in libreria, il che è la dimostrazione, alla fine, che le parole ancora fanno male più della spada. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se avete letto la quarta teoria politica, ve l'ho riassunta male e in pochi minuti, ma di più in così poco tempo non si poteva fare, avrei dovuto dicare un'ora e mezza ai video, cosa che non è nel mio stile. Bentornati dalle ferie, ci vediamo per il prossimo video con tante novità, tanti altri libri, e ricordatevi, leggere vi fa essere delle persone sicuramente migliori.